Il fronte della frana di Contrada Signore di Raffadali si allarga e continua a mangiare territorio. A denunciarlo è l'associazione ambientalista Mare Amico. Due mesi fa spiegano dicevamo speriamo che la frana non sia più veloce della burocrazia. Purtroppo siamo stati facili profeti. Infatti negli scorsi giorni un ulteriore crollo ha allargato il fronte della frana e ha sbriciolato la casa che era precedentemente scivolata a valle. Un fronte che continua a crescere dato che, come è facile verificare, si continua a scaricare sul ballone un continuo flusso di acque nere che proviene dal vicino depuratore e che spinge verso il basso il terreno. Tutto questo succede, continua Mare Amico, mentre il comune, Girgenti Acqua e il dipartimento regionale della protezione civile discutono ancora su cui è titolato ad intervenire. Si potrebbe dire, mentre i medici si consultano, il paziente muore e la fogna continua a scendere a valle incontrollata. Il comune di Raffadali, dal canto suo, lo scorso dicembre aveva annunciato che le procedure erano giunte all'individuazione dei proprietari delle aree, fasi preliminari all'avvio dei lavori di consolidamento.